E va bene, grazie dunque all'assessore Gurrieri, le idee sono buone, speriamo che possano dare i risultati sperati, perché avremmo bisogno di posteggi, di collegamenti, io metterei le scale mobile, eccetera, eccetera. Va bene. A proposito di collegamenti, parliamo prima di tutto di porto, il porto di Pozzallo viene utilizzato per portare il grano, la cosa che mi preoccupa, dice Autorità Portuale Sicilio Orientale, grande risultato per l'inclusione di Siracusa, fra questa area Augusta e Catania, il porto di Pozzallo, voi sapete, è pure inserito ma non se lo fila nessuno, come non si fila nessuno, neanche il famoso aeroporto di Comiso, il famoso aeroporto di Comiso, sapete perché è famoso? Perché è l'aeroporto unico in tutta Italia che perde sempre passeggeri, addirittura ora è arrivato a perdere il 50%, il 50% dei passeggeri facendo una malafiura incredibile. Il guaio è che io colloquio spesso con quelli di Aria Italia e mi dicono ma che cosa vuoi che ti faccio? Per esempio, ora metteremo il Comiso Linate che sarebbe bellissimo, però sai non si può mettere durante la settimana, si può mettere solo sabato e domenica, ma che cazzo l'ora ci frega a noi che ci mette il Comiso Linate sabato e domenica? Dice no, noi lo facciamo perché a causa della continuità territoriale, perché gli slot su Linate sono disponibili solo per chi ha la continuità territoriale, quindi siamo bloccati anche da quella che è la burocrazia maledetta e l'aeroporto resta sempre così com'è. Siccome c'è Paolo Crocifisso che ormai è diventato un attore e ci fa piacere, vedete questo suo minuto e 37 in cui ribadisce la vergogna che è in questo momento l'aeroporto di Comiso. Vediamo.